La presenza all'interno della comunità di alcune situazioni irregolari, ma soprattutto i recenti scandali emersi dagli sconcertanti e gravissimi episodi di pedofilia, hanno però fatto maturare l'esigenza di rinvigorire il diritto penale canonico, integrandolo con puntuali riforme legislative. Si è avvertita l'esigenza di riscoprire il diritto penare, di utilizzarlo con maggiore frequenza, di migliorarne le possibilità di concreta applicazione. Il nuovo canone 1398 comprende a questo riguardo le azioni compiute non solo da parte di chierici riservate alla congregazione dell'Ottentità della Fede, ma anche i reati di questo genere commessi da religiosi non chierici e da laici che occupano ruoli nella Chiesa, così come eventuali condotte simili con persone adulte, ma commessi con violenza o abuso. Grazie a tutti.